mmmm G queste A S Z O Bella Ferro Dog per la nomination freestyle e per il prossimo giro nomino BOP save e il nigno date il massimo ragazzi comunque sia ragazzi il freestyle si improvvisa, non si iscrive mi hanno sempre insegnato così lascia stare parte asso nel freestyle fa troppi danni, lo faccio da anni per come te lo scrivi sembra che tu c'hai 30 anni quindi ancora lascia stare alzo i grammi quindi ancora tu mi senti e lo vedi com'è che faccio quando rappo non giro tossico tipo laccio al braccio quindi ancora tu mi senti ogni stronzo dopo lo straccio bro questo hip hop è improvviso sopra re cross quindi ancora lo sai com'è fra peloso tipo king kong la tua tipa mi sente bene si song quindi ancora se io gioco fumo xbong quindi ancora tu non mi prendi mai già lo so da un tot che bro in questa scena tu mi senti che quando arrivi fra cielo metro e venti tu che stringi i denti già lo vedi amico cazzo menti senti mi sa che tu non hai sentimenti quindi ancora questo rap lo faccio denso e lo faccio adesso ti sfondo come il desktop cazzo vuoi bro io lo so fare se lo faccio da un tot e perchè ho un tot da parlare bella a tutti fanculo sbm nel posto e non potete con a s z o gia presto uscirà un cazzo di disco e spero di farlo uscire il più presto possibile così tappo la bocca a certi testa di cazzo gia basta mi son rotti i coglioni fanculo ciao